Traffico paralizzato dalle 4 di questa mattina alle porte di Gela sulle strade statali per Catania e per Licata a causa dei blocchi organizzati dai sindacati confederali, dai lavoratori dell'indotto dello stabilimento dell'Eni che protestano contro la chiusura della raffineria e contro la sua mancata riconversione in Green Raffinery. Fermi da oltre due anni ed esauriti tutti gli ammortizzatori, i lavoratori delle imprese appaltatrici rischiano il licenziamento perché non sono stati mai aperti i cantieri concordati con il protocollo d'intesa del 6 novembre del 2014 che avrebbero dovuto realizzare opere per 2,2 miliardi di euro in Sicilia. Tutte le varie promesse, tutte le varie cose, ora sono finiti pure tutti gli ammortizzatori sociali perciò da giorni aspettiamo notizie, da due mesi già che gli stipendi sono ridotti perché tutto il personale nostro della Sud Eretto è stato posto in affaire obbligatorie ma l'azienda non sta pagando nemmeno le ferie, detraendo tutto il credito delle ferie dalla tredicesima e delle giornate fatte. Ad oggi in poche parole i giorni fatti nostri di lavoro, se facciamo una settimana e viene retribuito una settimana tutto il resto che manca alla copertura sia degli ammortizzatori sia delle ferie non viene retribuito perciò abbiamo buste paga, cioè dovremmo avere buste paga perché ancora non abbiamo preso nemmeno lo stipendio del mese scorso di 400, di 500 euro e niente, in virtù che Eni non dà risposta, in virtù che l'azienda non sta pagando si è deciso con le forze sindacali di avviare questi scioperi. Noi vogliamo solo lavorare, non cerchiamo nient'altro, siccome qua hanno distrutto tutto non faranno neanche sicuramente la raffineria green, quindi dove dobbiamo andare noi? Chiedete una mano concreta da parte delle istituzioni? Certo, sono proprio le istituzioni quelle che mancano, se non si spostano loro qua non si conclude niente Renzi forse ci ha dimenticati. Ma non partiva da Gela proprio la vera industria, così disse Renzi, addirittura Gela era l'esempio? Sì, Gela doveva essere l'esempio, ma infatti si sta vedendo, è l'esempio di tutti i licenziamenti. Gli operai sono sull'Astrico, la situazione si è fatta realmente preoccupante, i presidi sulle strade di accesso a Gela sono monitorati dalle forze dell'ordine. Ma perché non si interviene allora per frenare quella che è venuta una vera e propria emergenza occupazionale in città? Questa domanda la dobbiamo fare ai nostri politici, che hanno dato lo strabene al signor Renzi, che sa che il problema di Gela è risolto, anzi si fanno pure la pubblicità che la raffineria è diventata green addirittura, cosa che non è vera.